ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo demon turf ringrazio vivamente fabraz per la freaky andiamo a conoscere questo gioco è una preview e come tutte le preview vi ricordo che io non ho mai giocato questo gioco lo giocheremo insieme la prima cosa da fare è andare su settings e abbassare un po il volume della musica andiamo a vedere cosa ci aspetta manuale bene perfetto ci siamo appena spiattellati ah ok per guardarci attorno usiamo il mouse è il classico vsd per controllare il nostro personaggio ottimo andiamo a vedere cosa succede qua ok con lo shift facciamo questa cosa che non so cos'è non so assolutamente cosa succede qua poi abbiamo un cammina piano con control tipo passeggiamo perfetto c'è una casa volante poi abbiamo il toggle camera mi sta bene così è il camera zoom si a quel con la rotellina a bene 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 questo sì che è una gran bella cosa a me piace giocare con la camera distante a volte poi lo space per un salto regolare quindi incominciamo a capire come si salta salto salto perfetto fino a qui tutto normale e abbiamo un double jump con doppio space quindi ok ok ho sbattuto ok perfetto uno e due ce l'abbiamo fatta e vai e poi abbiamo possiamo andare sott'acqua quindi col control ci immergiamo e diventiamo un polipo e sentite l'audio è ovattato perché siamo sott'acqua per tornare in superficie o a galla premiamo lo space e invece qui cosa ci dice se premiamo il sinistro in mouse a un sommergibile proprio ok perfetto che versi vabbè abbiamo rotto mi sono incastrato no ok ho rotto il televisore qui cosa vuole invece jump contro il muro ok perfetto capito tipo un po di parkour però magari fatto bene no ok ho fatto perfetto attenzione lì cosa c'è qualcosa di nascosto no qui invece cosa c'è space più shift per andare più lontano praticamente ok proviamo no c'è solo shift scusate eh allora vediamo un attimo space più shift ah ma non ci arriviamo così con lo space più shift cioè space shift mant- ah ok perfetto adesso space space shift era doppio salto shift ok andiamo a leggere cosa facciamo double jump e quindi flutter spin ah ok per andare ancora più distante perfetto space space shift perfetto appelo proprio e poi abbiamo un altro tipo di salto the super jump space 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 the super jump space 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 oh ok space shift space bella mi piace questa cosa di avere tre tipologie di salti differenti dove ci possiamo divertire c'è qualcosa che cammina là questo cos'è vabbè qua ci dice di combinare il tutto ma andiamo un attimo in esplorazione qui c'è qualcosa no niente e lì c'è una casa però andiamo nella casa vediamo un po cosa c'è buongiorno oh una torta ci sediamo possiamo distruggere il televisore no vabbè qui ci sediamo e basta vabbè abbiamo preso una torta ah in alta a sinistra ci dà le torte una di tre quindi ci saranno altre torte da prendere quindi no guarda l'ombra e ti dice dove tu atterrerai e adesso? ah la pedana volante saliamo doppio salto saliamo così vai risaliamo ancora e mantieni premuto tab ah per fare un checkpoint allora premiamo tab abbiamo fatto un checkpoint fico si è sbloccata un'altra zona la camera mostrerà subito i punti di interesse e questo qui ci farà scivolare e possiamo controllare perfetto e abbiamo una seconda cake ok dopo aver selezionato il checkpoint aver fatto il checkpoint ci dice di premere R per tornare al checkpoint ma mi sa che dobbiamo settare un altro checkpoint lì no c'era bisogno perfetto prendiamo questa cosa volante e andiamo dall'altra parte cose fluttuanti doppio salto eh per forza ok adesso c'è un pulsantone qua che se ne scende cos'è che ci dice ah possiamo spingerli col nostro super mega pugno col sinistro del mouse carichiamo wow boom e lanciamo i pezzi soltanto che questi qua tornano indietro fuori un altro fuori un altro è un altro ancora ma questo è tornato indietro ma non so perché ma si è aperto ah ne bastavano due perfetto questo ah ok usiamo il pugno anche per riflettere il danno allora vieni qua tank fatto ok questo è easy ma ci serviva qui invece possiamo usare il pugno o lo spin contro i mostri per vincere tipo così boom ah ah fico ah io vi butto tutti là adesso ho finito no comunque c'è anche lo spin ah guardalo 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 ci voleva attaccare e ma la terza torta look for the sweet ah vabbè la troviamo così vediamo dove è eccola qua la terza torta è stata trovata signori e quindi premiere e ora dove dobbiamo andare questo mini labirinto no 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 aspetta danazione vabbè saliamo perfetto eh ok e adesso camera mode pause for move ah ci possiamo fare i selfie ma va tipo così ah t album va bene e entriamo in questa lava ah abbiamo passato il livello cioè il tutorial il mondo è è separato into terfs e loro gang leaders ma non stand a chance to the demon king himself un kappa Ecco, non mi piace quando Flick era così tanto la scritta Anche se dà l'impressione che l'è incavolata Però quel tremolio forte mi dà un po' fastidio agli occhi Non lo so, ma sono più pieno di più per chiamare il cuore Ha, ha, sembra proprio certo Buona cosa che ho scoperto esattamente chi ha il cuore per chiamare prima Andiamo alla scuola, verso la grande briga Vedrai il castello di Demon King in fronte di te Ma alas, per poter 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 colpire le batterie prima Tra l'avete E la gang di Apaka Desert gang ha un po' di loro Quindi torna a destra e entra il portale E tu sarai loro leader di Turf nel tempo Allora, proviamociare la gang di Apaka Desert gang Ok, quindi, sembrerebbe che abbiamo bisogno di collezionare Sono morto La mia prima morte Che abbiamo bisogno di collezionare delle batterie Per sbloccare il... Oh, un bounce Questo? Quindi siamo nella città Fotografia Negozi Deschap Vediamo deschap C'è lo sconto del 30%, 60% Chi cavolo è questa? Bonjour madame Com'è poi? Je vous... Adè? In francese Eh, what? Appunto Ah, appunto Ah, ok È francese C'è pure il cappellino francese E... Cliccando lì Prendiamo qualcosa Che non ho capito che cose sono Però... Abbiamo bisogno di 65 lecca lecca Ma non ne abbiamo Abbiamo 0 lecca lecca Va bene Andiamo a sconfiggere La gang Questo cos'è? Super Mega Demon Soccer Golf Deluxe Oh, ok C'è il pub Eccola qua Oh, hey Tu sembri un po' groucho Hey, Luce Il demon king Tantò mi e la mia L'ho fatto? Ma cosa ha detto il boss? Ma cosa ha detto? Che non importa? È solo un sogno, in ogni modo Oh Certo, sì Ovviamente è solo un sogno E non proprio lui Beh, buona luck Quando sei una piccola avventura L'abbè, Bidzi Non è solo una piccola avventura, Luce In realtà Soprattutto faccio E' conto Ci sottovaluta la ragazzina Allora, lì Ci vogliono 50 batterie Infatti, guardiamo Ah, ma lì c'è altra New New City Ok Apoka Desert Andiamo a sconfiggere Apoka Desert Let's do it Stai un po' male Midgy Eh, c'è il polvere Allora, torniamo al business Bebs Parece che abbiamo bisogno di stilare questa batteria prima Andiamo a rubare questa batteria Per alimentare il ponte Che ci porterà alla Poka Desert Città O zona C'è gente in giro Ok E quindi Vediamo un po' cosa dobbiamo fare noi Doppio salto Doppio salto Andiamo di qua Andiamo di qua Look for sweet Ah, ci sono dei dollari Ah, ah, ah Aspetta 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 I know my chicken Come dicevano Ah, ok Preso E di qua? Possiamo picconare C'è del Del minerale Stavo cadendo di nuovo Ah, hai visto cosa ha fatto? Bello Figo E qua? Pente scivola sul muro Ah, di qua? C'è una torta lì No, eh C'è la casa Ah, un minatore Mi insegna a minare? No, vero? No Ok Niente Come non detto Doppio salto Il cartello ci dice Doppio salto E noi faremo il doppio salto Ok Adesso abbiamo un Double jump And then flutter spin Doppio salto Più shift Quindi ancora Ci spiega un po' Come fare Ottimo Dove? Di là? Sì Uno Due Spin Oh, i porcellini Via Grande combo Ok Qui Cosa ci dice? Ah, questo è il combattimento Ah, si è aperta questa Questa cosa Andiamo di qua E di qua sarà Space shift space Quindi the super jump Ok Space shift space Eh, ce l'abbiamo fatta Andiamo di qua E qua Si può andare sulle foglie? Sì Set teleport to checkpoint Ah, vuole che settiamo Ah, vuole che settiamo un teleport Ma qui? Qui? Così? Settiamo Vuole che settiamo un teleport Che è successo? Ah, ho premuto S e teleportato Ok Wall jump Iniziamo Ta 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 Ci siamo Via E saliamo Sul qua No, 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 no Ci siamo divanti di prendere quella torta E più in basso di dove siamo noi E infatti è qui Ecco perché ci faceva settare il teleport Ma ce l'abbiamo dimenticati completamente Quindi R E ritorniamo al checkpoint Ok Jump 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 Super jump Andiamo sulla piattaforma Fatto Abbiamo stati attenti veramente quando si salta Perché a volte È veramente difficile Quindi Bisogna veramente vedere la tua ombra Uccidiamolo lì Poraccio Saliamo su Il muro Non so cosa abbia fatto Però va bene Ah Space più shift No Ok Siamo caduti Eh, i fiori Sono un po' tediosi Ma Vuol dire che ce la facciamo a fare Tipo una roba del genere Sì Perfetto Ci siamo No Questa non me la perdonerò mai Piano 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 È impazzita la La bandiera È impazzita di brutto Ho distrutto il gioco Ho distrutto il gioco Andiamo più veloci Ok Troppo veloce Sto incominciando a studiare Questi fiori Ok Non so perché Ma la bandiera è impazzita Ma non ci interessa Noi dobbiamo recuperare la batteria Via Fatto Ok Adesso andiamo lì Ah perché scompaiono Attenzione Qua cosa c'è Ahà Eccola qua Qua dentro Non c'è niente Questo lo rompiamo Il territorio no Lì c'è una persona Ok Speriamo che non cadiamo Ok Due Ok È la nostra batteria Signori Un minuto e venti Trofeo time Ok Adesso abbiamo accesso Alla nuova area Ah Ci abbiamo la quest C'è tanta roba C'è il boss C'è il boss C'è il boss Non credo che ce la farò mai Come il battery C'è? Ah ok Credo che ancora Non sia pronto Questo Eh sì Una di sette batterie Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Questa non è accessibile Alla demo Ma questo Sì Andiamo Ok Stavo per lasciare le penne Eeeh Here we go Let's do this Eh già qua Le cose si incominciano A complicare Stai zitto Ok Perfetto Allora Facciamo questo Ed entriamo Questo è amico o nemico? No È nemico Ok Spara No Non spara più Entriamo qua Ah qua c'è il vault Vabbè Non ci fanno passare Ma come ti permetti? Ma morirà mai? Vediamo se ci spara No Spingiamo così Oh c'è un altro Via Oh no Dovevo fare dall'inizio Eh sì Ok Vabbè È semplice È facile Arrivare qua Se lui ci vede No Non ci vede Morto Tu Dai spara Tu spari pure Vai Lo so che puoi sparare Sta sparando Via No Eh non muore Devo stare perfettamente dritto Vai 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 No Non lo prendiamo Adesso sì però Madonna mia Per poco Vai Oh Finalmente Quello Ok Dobbiamo salire sopra Perfetto Andiamo Di qua No Ho spostato una cesta Una cassa Ok Via Ok Senti Credo che dovremmo andare Di qua Torta No Di qua Non c'è più niente Però Di qua Di qua Di qua Non credo proprio No Di qua Non c'è niente Quindi Di qua Ah ok Di là Vediamo se No Non riusciamo a farlo Sì Ok Credo che quel raggio Mi uccida E infatti Ci siamo ammazzati Ok Più o meno abbiamo capito Dove andare Saliamo di qua Uno Due Ok Aspettiamo questi Rumore Via No Sai che questa me la perdo No Ce l'abbiamo fatta Ok Adesso con calma Facciamo questo C'è il raggio Raggio concelante No 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 Questa non me la perdonerò mai Ok Riproviamo Altro giro Altra corsa Uno Uno Due Questa Proprio Mi sono salvato in calcio Mi sono salvato in calcio d'angolo E' L'abbiamo fatta Ok Questa l'abbiamo rubata Adesso si Ci siamo Credo che questi si piegano Fatti Ok No C'è qualcosa che No Però Qui C'è una pedanina Perché c'è una pedana qua Anche lì c'è una pedana Vabbè Ogni tanto c'è una pedana Quindi non vorrei che ci sia qualcosa di segreto Vabbè Noi dobbiamo andare lì Quell'apertura lì No Non c'è niente di segreto Assolutamente nulla Quindi dovremmo solamente salire lì Facciamo un altro giro per scoprire se c'è qualcosa E lì c'è una torta però signori Ok Quindi per prendere la torta Saliamo qua No Presa E ci teletrasportiamo Ok Allora dovevamo salire di là E andiamo Due torte di tre Quindi suppongo che la terza sia sopra Anche perché qua non ce n'è No Assolutamente no Riproviamo Potremmo anche saltare sul muro E provarci Credo che saltando sul muro non ce la facciamo Perché non ha Perché no Perché non sei salito sulla freccia Non capisco Vabbè Ma Ok ci siamo qua Allora facciamo così Saltino Sì Questo cosa vi avevo prima che saltavano Ok Ci siamo Questi qua Ah ok 1 2 3 E 4 E adesso Cosa che urla Ah Ci buttiamo Ok ci siamo Possiamo selezionare un frag No niente frag Ok Ci buttiamo da qua Eh 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 No Siamo morti lì Ci dobbiamo rifare questo jump di nuovo Forse dovremmo settare un flag da sopra Però non ne abbiamo più Ci dice due di tre Ok Questo Vabbè Questo Fino a qua Riusciamo a farlo Sembra abbastanza facile Quindi forse ce la facciamo Ok 1 2 3 4 Riusciamo a settare un flag qua Sì We can do it E ci buttiamo Così ci evitiamo di farci quella scalata lì Allora fammi vedere un attimo Di qua E poi di qua E poi E poi ci buttiamo di qua Però ce l'avevamo Pirulino ho detto Però ce l'avevamo quasi fatta Pirulino Ok Quindi dobbiamo stare proprio con la camera Verso il basso Quindi così Poi di qua E ci sia Ahia Si è spiattellata Poraccia Ok Cerchiamo di capire di dove Qua Qui Signori Siamo nel vault Il vault del bellaggio C'è la batteria Via la batteria La fine della demo Ok La demo finisce qui E anche la nostra preview Come tutte le preview Non lascerò un feedback O un Né un commento Né un giudizio Su questo gioco Lascio a voi decidere Se vi piace oppure no Qui sotto In descrizione Vi lascio il link Di Steam Se volete supportare il canale Basta un like O un commento E se vi va Iscrivetevi E come sempre Siete medici Alla prossima Bye bye Bye